Dopo il taglio dei capelli, i collegiali sono pronti a seguire le prime lezioni, cominciando da quella della professoressa Petolicchio. Buongiorno, studenti! Mazza, che figa! Ops! Non è vero, non ho mai detto che la Petolicchio fosse una figa. Certo che con questi nuovi capelli, con quella tuta, non è male. Che c***o sto dicendo? Cominciamo a fare qualche domanda. Partiamo dal signorino laggiù in fondo. Lui? No, no, lei. Lei? No, lei con gli occhiali. Ah, ecco, secchia gli occhiali. No, lei con gli occhiali da sole. Guardi, con gli occhiali e da sola c'è proprio secchia. No, lei! Ma lei chi? Lei nel senso di lui, signorino, tu! Ah, e allora usi i termini giusti. Aspetti, dici a me? Sì! Adesso mi sta sul c***o. Sapete che c'è? No, non la trovo carina la Petolicchio. Anzi, con quel vestito di c***o mi sembra uscita da Squid Game. Facciamo un po' di anatomia. Venga qua, signor Billy. Ma che è sto scheletro? È ancora Halloween? Ma no, signor Billy. Ma come non è Halloween? Io mi stavo preparando. No, questo è il nostro modello. Il nostro modello? Ma mi sembra un po' asciutto. Ma hai mangiato? Si vede che il cibo della mensa deve fare più schifo. La smetta! Mi concede questo ballo. Signor Billy, mi ascolti o la mando dal preside? Allora, mi sa dire come si chiama questo? E che ne so io. Filippo? Ma no, signorino Billy. Filippo non è un uomo di un osso. E perché no? Ho visto padroni chiamare i propri barboncini. Gregorio Massimo II di Borbone. Perché io non posso chiamare il mio osso Filippo? Questo si chiama Omero. Eh? Questo è Omer Simpson. Ma mica è giallo. No, è l'Omero. Omero? Ma non era tipo un autore greco? Omero! Va bene, va bene, ho capito. Questo invece? Radio. In che senso? Se lo collego posso sentire la musica? No, è il radio. Professoressa, ma si dice la radio. Ma li sbaglia tutti gli articoli. Capisco che non si è insegnato in italiano. Però c'è, ne so io. Silenzio! Andiamo avanti. Mi indichi il manubrio? E' un attimo, devo scassare una macchina per portarle un manubrio. Ma no! Lei è peggio di Mattias caviglia. La caviglia è questa. Vada fuori! E dopo la prima lezione introduttiva andata un po' male, i collegiali si recano in menza per assaggiare... Olio di merluzzo? Ma che schifo! A quale persona sana di mente verrebbe voglia di mangiare olio di merluzzo? A essere onesti, l'olio di merluzzo contiene un sacco di componenti nutritive... Tieniti le tue str***ate salutari per un'altra volta, secchia! Questo fa schifo e basta! Et voilà! Problema risolto. Hai messo l'olio di merluzzo nel vaso? Sì. Ma adesso prende la vita e diventerà un mostro pianta merluzzo! Un piantuzzo! Con le gialli basta dire cavolate e andate a mangiare. E questo? Brodo, signorina! Vabbè, poteva andare peggio. Sembra piscio! Voglio fare una rivolta! Una rivoluzione! Oh, Billy! Fare una rivoluzione è una cosa bellissima! Come hai intenzione di farla? Preparando un discorso? Chiedendo un dialogo? No, io pensavo di fare così. Po, 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 po. Dateci la pizza! Po, 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 po. Oh, mamma! Eeeh, ma cos'è questo baccano? Eeeh, è stata secchia! Non è vero! Allora perché tiene in mano un piatto come se volesse lanciarlo addosso alla cuoca? Eeeh, perché ho fermato secchia! Billy! Vai dal prezzo! Signor Billy, lei è di nuovo qua! E ci vede bene! Ma che cos'è che la fa comportare così? Secondo me lei fa tanto il forte ma in realtà dentro è insicuro. No, sono proprio st***a così! Ne è sicuro? Oh, accidenti! Mi ha scoperto! Quando ero piccolo a scuola c'erano dei bambini che prendevano a calci gli altri bambini. Ah, per favore! No! Basta! Ah! Oh, e le hanno fatto male? Oh, no, no! Io ero uno di quelli che prendeva a calci! Ah, giochiamo Olly e Verge! Io sono Olly e tu la palla! Però un giorno mi hanno detto che questi calci li tiravo come una schiappa. Oh, mi spiace! È stato veramente un brutto momento! Capisco. Va bene, signor Billy. Per questa volta non la punisco. Ma mi raccomando, perché alla pro... Ok, ciao, pelato! Anche stavolta me la sono scampata. Ma era una storia vera? Certo che no! Figurati se tiro veramente calci ai ragazzini facendomi chiamare schiappa. No, sarebbe un disonore! Io ero bravissimo. Senti, prima che arrivi la prova d'inglese ripassiamo un po' di geografia che poi ci interroga. Oh, che palle! Cosa sai dirmi del Mar Morto? Oh, manco sapevo che stesse male! Condoglianze! E del Mar Rosso? Se ci butti della vernice blu diventa il Mar Viola! E dove stanno le Alpi? E chiedi a mia madre, è lei che mette a posto! E qual è il paese più lungo? L'Ungheria! Va bene, basta! Ho risposto giusto? Guarda, se facciamo una verifica crocette ti consiglio di farla ad occhi chiusi perché ci sono molte più probabilità che tu la passi. Beh, io di solito le faccio così! Sì, andiamo! Welcome, guys! I'm your English teacher! Che ha detto? You, with the glasses! Eh? Quante classi? Una ce n'è! You! Me? Yes! Ma perché ce l'hanno tutti con me? Come si dice in inglese battere le mani? Batman! Come si dice sporco? Ehm... Dirti! Dirti! L'inserisca in una frase? Eh, non so che dirti! Oh my gosh! Come si dice, gatti? Cazzo! Fai una frase con questa parola Mi hai rotto il cazzo! Non va bene! Che cazzo ho detto che non va? Non ci stiamo proprio! Come si dice, grasso? Fat! Provi a dire i grassi gatti! Fat i cazzi tua! Vai dal presidente! Sì! Lei è di nuovo qua! Eh, la prof non capisce quanto sono bravo in inglese! Le avevo detto che la prossima volta avrei preso dei provvedimenti! Vabbè, ma quando dice che lei prenderà dei provvedimenti, un po' come la gente che dice da lunedì a dieta! Dovrò scegliere se buttarla fuori dal collegio oppure no! Ma è morto! Cioè, devo chiamare l'infermeria o ce lo dice ora? Ve lo dirò nella prossima puntata! Nooo! Ciao a tutti team Olivieri! Io sono Eronora e questo era il collegio nella vita reale, episodio 2! Se l'episodio vi è piaciuto, non dimenticatevi di lasciare un bellissimo mi piace per vedere il terzo episodio! Mi mangio sempre qualche parola, ma chi se ne frega! Vi ricordo anche che sono uscite le mie felpe e bagnette di Squid Game nella vita reale, con Billy, Azzurra, me stessa, Alex Brown, Ice e tanti altri! Ve le lascio nel link nel primo commento per acquistarle! Noi ci rivediamo in un prossimo video! Olivieri, Olivoggi, Oliv sempre! Ciao! Noi ci rivediamo in un prossimo video! Noi ci rivediamo in un prossimo video!